Ci troviamo a Vesime, nell'Astigiano, e siamo lieti di presentarvi il nostro Campodemo Fugincita su Vite. L'evento Campodemo è diventato negli anni un brand di riferimento vocato alla conoscenza e allo scambio di informazioni in merito alle attuali tematiche in agricoltura, totalmente disegnato per e dagli operatori del settore. Difatti, proprio a seguito di costanti confronti sia con gli agricoltori che con le aziende produttrici, è nata l'esigenza di approfondire il tema della difesa fungicida, in particolare con strategie di biocontrollo, un settore in crescita e con proposte di rilevante interesse. In definitiva su Vite stiamo testando a latere delle tradizionali strategie di difesa anche prodotti di biocontrollo, sia prodotti già in commercio che prototipi ancora non in commercio e sperimentali al fine di valutarne l'efficacia contro Peronospora.